Franco Davanzo, neopresidente del Consiglio Comunale di Leporano, un ruolo istituzionale importante, dovrà essere Superpartes? Certo, certo, a parte che lo stabilisce il terzo comma dell'articolo 39 del decreto legislativo 267 del 2000. Sarò un presidente Superpartes, la mia porta dell'ufficio è aperta a tutti e il presidente potrà coordinare, dirigere tutte le operazioni che hanno a che fare con il Consiglio Comunale. Mi impegnerò per quanto riguarda le convocazioni e questo sarà il mio compito, il mio ruolo. Poi tutto il resto avverrà sicuramente in quella assise e andremo avanti con i lavori.